Allora, quello che noi stiamo registrando adesso è uno scopo di sentire se la voce viene chiara, limpida, regolara. Se quindi ho queste caratteristiche, la voce di questo video, ecco, se mi chiese così sarebbe una cosa straordinaria perché c'è una voce che schiara, limpida, regolara. Se questo video è così, cosa direi che è un miracolo? Prova tu, hai una brutta voce. Parla, continui a parlare di all'ultimo, è un miracolo. Una voce, adesso, una delle migliori. Adesso provo in questo modo, con una voce più chiara, più distinta, non so, stiamo facendo rumore. Facciamo segnali i film. La salbetta morta, se leggi la salbetta morta, le stanchietta, sentra, la salbetta morta, le luminosa. Fai un gru, fai un gru, fai un gru, fai un gru. Fai un gru, fai un gru, una macchegchina, una macchegchina fotografica nuova. Fai un gru. No, un minuto. Si, ora fai tutto un bonito. Fai un gru. Fai un gru. Fai gru. Fai un gru. sentiamo? come è? sentiamo? sentiamo? e sentiamo questa mociarella sembri la mozzardina, la mozzardina è una mangiare coprofitto la mozzardina è una mangiare coprofitto la mozzardina è una mangiare coprofitto la mozzardina è una mangiare coprofitto